Buongiorno a tutti e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Focus Periferie e ovviamente se parliamo di periferie ed è Focus Periferie non può esserlo senza anzi il nostro presidente della consulta per ferie Milano Walter Cherubini Buongiorno Walter Buongiorno, ben ritrovati a questa che è la centottantesima puntata 180, beh auguri allora Centottantesima puntata Complimenti, bravo Siamo quasi verso il 190, attendiamo un pochettino Chi hai voluto portare con noi oggi in studio? Allora abbiamo un rappresentante di punta perché è il presidente di una delle istituzioni locali e il municipio 5 in particolare che tanto per avere un'idea si trova in quello che noi abbiamo il cuore di Grattosoglio andando fino a Rozzano quindi un'area sicuramente interessante e importante dal punto di vista della città e che come il resto della città è interessato sicuramente dalla necessità di interventi di valorizzazione ma soprattutto di gestione di quello che è l'esistente Allora diamo il benvenuto a Natale Carapellese, presidente del municipio 9 Buongiorno a tutti 5, ho detto 9 Mi è avuto 9 così insieme Abbiamo detto 5, 5, 5 Me lo sono anche scritto, ho detto 9 Siamo partiti da sud a nord Infatti non c'entra niente da tutta l'altra parte il 9 Io ho il 5 che è quello delle Olimpiadi, dei Cinque Cerchi, del Batticinque e quindi stiamo lavorando in molte direzioni E' un municipio centrale E' lo spicchio sud Perché adesso veramente lì c'è tanto Abbiamo lo Scala Romana, abbiamo il villaggio olimpico che sta crescendo rapidamente Ci siamo presi questa ambizione di avviare un percorso di riconoscimento UNESCO per l'area di Chiara Valle E devo dire grazie anche al Sindaco e alla Giunta che hanno condiviso con noi questa scelta E siamo proprio alla fase iniziale, entro dicembre verrà stilato un dossier, un piano di prefattibilità Tanti appunto i dossieri aperti come si dice in questo caso, sul municipio 5 5 come i 5 anelli dicevamo, 5 anelli delle Olimpiadi Come sta andando quella parte lì, quella partita Va, va, va Va speditamente, sicuramente il cantiere addirittura è avanti rispetto ai tempi Io mi auguro, noi ci auguriamo che insieme a quello che è un impegno un po' obbligato Un po' come lo è il PNRR Poi parlando di lasciti, ci sia un lascito e una restituzione al territorio Anche dal punto di vista ambientale e territoriale Per quello che è la previsione di un parco, di un grande parco centrale nell'area E l'altro pezzo che noi abbiamo chiesto è che ci sia una possibilità di avere case a prezzi agevolati Per chi ne ha bisogno Tema scottante quello, no? Assolutamente sì, è uno dei temi centrali di questa città Dimmi Walter, vedo che vuoi intervenire, di pure, prego Sai che tu qua hai libertà di entrata quando vuoi Come era il mediano che può entrare tranquillamente per difendere la porta Ci sono due aspetti, uno che è la città dell'innovazione Ah, giusto E quindi prendiamo gli scali ferroviari, il scalo di Porta Romana in questo caso Se però noi diamo un'occhiata a quella che è la città Gli scali ferroviari che sono interessati appunto da trasformazioni cittadine Sono un chilometro e venticinque Un chilometro e venticinque? Questo qui è un pochettino su 181 chilometri quadrati Se noi guardiamo l'area periferica della città Cioè quella che va dai confini Va fino indicativamente alla cerchia della 90-91 Noi abbiamo che di questi 180 chilometri quadrati Sono circa l'80% L'80% è costituito da quest'area Dove dimorano i due terzi della popolazione Questo qui è un pochettino il punto di partenza Allora, se noi facciamo il paragone Tra quello che è l'ambito della trasformazione Che sicuramente desta molta attenzione E anche una certa speranza E se parliamo anche di nuove abitazioni Per esempio uno spera che siano In termini di accessibilità economica Ecco, nello stesso tempo Noi però lasciamo un pochettino In secondo momento Quello che è l'esistente Dove noi abbiamo un patrimonio abitativo Molto ampio E anche sottoutilizzato E anche inutilizzato Non solamente il patrimonio Edilizia residenziale pubblica Ma anche il patrimonio del demanio pubblico Ma anche il patrimonio degli enti C'era il più albergo Trivulzio Che mi sembra abbia qualcosa come 1.400 appartamenti Di cui 400 non utilizzati Quindi percentuali anche piuttosto significative Che trovano una loro corrispondenza A questo utilizzo Anche in un vuoto E in un vuoto anche Umano Perché quando noi teniamo Qualsiasi cosa vuota Può essere un negozio Può essere un'abitazione È chiaro che c'è qualcosa Che non funziona Da un certo punto di vista Allora Quando ci sono Gli aspetti gestionali normali Perché uno può cambiare casa Eccetera Ma quando sono strutturali Diventano un problema Di organizzazione Di gestione organizzativa Ecco questo è un pochettino Il punto fondamentale Dove Milano è sicuramente ricca di progetti Innovazioni Però poi quando si va ai processi organizzativi Si segna il passo Il tema del decentramento È sicuramente uno dei temi organizzativi Però hai detto una cosa interessante Vi hai parlato dell'esistente Delle case popolari Dell'ERP Residenziale pubblico Che al momento magari è inutilizzato Sottoutilizzato e tutto Voi municipi però Non avete voce in capitolo su questo O sbaglio? Ad esempio Parlando di decentramento Abbiamo veramente poca voce in capitolo Io potrei partire facendo Quella che è una mia suggestione Parliamo di città metropolitana Che comunque è uno strumento incompiuto O comunque monco Perché con l'eliminazione e il superamento delle province Si è creata questa organizzazione Denominata città metropolitana Che però ha una doppia percorribilità Ci sono i comuni dell'Interland Che sono dei comuni a tutti gli effetti Ci sono i municipi della città di Milano Che sono giustamente delle emanazioni Del comune centrale Ma a mio avviso Bisognerebbe in prospettiva Guardarle in una logica più equilibrata Guardando un po' ad altre grandi città europee Quindi dal punto di vista amministrativo Io concordo molto sulla gradualità Che però si cominci non fra 10 o 20 anni Anche perché il decentramento Se non ricordo male È un'idea della notte dei tempi Una bellissima idea Ma della notte dei tempi Il primo regolamento Walter Quando risale la prima idea di decentramento Delle zone di Milano Delle 20 zone L'introduzione delle 20 zone È legato al 1968-69 Insomma Quindi si parte da questo Dopodiché Tanto per dare l'idea anche dell'evoluzione Non è che non ci sia mai stato niente Perché 1977 C'è un regolamento Del funzionamento degli allora consigli di zona Un regolamento Che se andiamo a ritroso A vederlo Era anche un regolamento Che derivava da una concezione Della gestione del territorio E quindi c'era Qual è stato il problema Di questo regolamento del 77 Che è rimasto sostanzialmente A lettera morta per 20 anni Ed è rimasto a lettera morta per 20 anni Perché? Perché nel 1997 Fu sostituito Da un nuovo regolamento Peraltro un pochettino più restrittivo Ma che fine ha fatto anche il regolamento del 1997? Rimasto sostanzialmente a lettera morta Per 19 anni Fino a quando? Fino al nuovo regolamento dei municipi Regolamento dei municipi Che venne fatto Proprio legandolo Non a C'è la necessità di dare una risposta Al territorio del municipio E quindi facciamo un regolamento Che ne sia la risposta Il tema era legato invece A quello che era l'elezione diretta Del sindaco della città metropolitana Secondo la riforma del Rio Se non si fosse cambiato L'assetto istituzionale Anche se possiamo dire oggi Dal punto di vista formale Più che sostanziale Non ci sarebbe stato questo passaggio Quindi Noi ci troviamo A fare ragionamenti regolamentari Su le necessità del territorio Mutuando da altre necessità E' chiaro che poi La risposta non c'è Questa qui è una conseguenza normale E se c'è stato un blocco Di questi tre regolamenti Perché Quello dei municipi È del 2016 Quindi siamo già nel 2024 Tutto sommato Non sono passati alcuni mesi Ecco C'è una stratificazione Diciamo così Politico-burocratica Che nei fatti Blocca le vicende E questo va A deperimento Proprio anche di fatto Di cose che ci sono Sul territorio E che però Si possa fare La prova c'è Perché invece Qualcosa Qualcosina Pian pianino cambia No? So che insomma Forse finalmente La giunta Sta cominciando a capire Il comune Sta cominciando a capire E qualcosa arriva Forse anche perché Insomma E siamo tutti dello stesso colore A questo giro Avete fatto sentire molto La vostra voce Voi presidenti Di municipio Giusto? C'è un impegno Assunto col sindaco Sala Con l'assessora Gaia Romani Di andare a rivedere Migliorandolo E come dire Rendendolo un po' più Stringente Più esigibile In alcuni articoli Quello che è il regolamento Dei municipi Faccio un esempio I vecchi consigli di zona Addirittura Avevano più voce In capitolo di oggi Sulle materie Faccio un esempio L'urbanistica Non tocchiamo quel tasto Anzi però toccheremo magari Noi però Al di là di questo Riteniamo che sul verde Su tutta una Sulla mobilità Su tutta una serie di questioni Che ci investono direttamente Perché il sottoscritto Come gli altri presidenti Riceve centinaia di mail E di messaggi Ogni giorno Per il semplice fatto Che siamo L'istituzione Più prossima Più vicina Comunque i cittadini Ci vedono Come interlocutori E in molti casi Anche come responsabili Salvo poi Avere Poca voce in capitolo Ecco L'impegno Assunto È quello Non tra qualche anno Ma in questa fase In questo momento Di andare A rivedere Alcuni articoli Rendendoli In qualche modo Più scorrevole Più A nostro Punto di vista Esigibili Quando ho un presidente Municipio in studio Non posso Non chiederti Quali sono i temi Su cui devo per forza Farla parlare Perché so che Sennò dopo Mi scrivono tutti I suoi abitanti Del municipio Dicendo Ah però non gli ha fatto Questa domanda Quindi lo dico Direttamente al presidente Di cosa vorrebbero I cittadini Chiederle in questo momento Sicuramente Così se poi Sbaglia risposta Anzi se sbaglia Farsi la domanda È colpa sua Dico due cose Essenzialmente Casa Anche perché Sennò rischiamo Di stare qua Tutta la mattina Casa E mobilità Per dirne due Poi ci sarebbe Anche il verde L'ambiente Ma Fermiamoci Alla casa E alla mobilità E mi volta Ma c'è un tema Che Da Palazzo Marino Le periferie Non si governano Su quello Dato di fatto Per te questo Questo qui È il dato scontato Perché altrimenti Avremo una gestione Puntuale del patrimonio Immobiliare Non avremo Un disastro Di discariche abusive Su tutto il territorio Che abbiamo verde Per esempio Prendiamo l'area sud Di Milano Poi parco agricolo sud Tra le altre cose E abbiamo Discariche abusive Dappertutto Non vorrei Dire ma forse Il municipio 5 È uno dei municipi più verdi Da quel punto di vista Proprio con aree agricole Anche giusto Da un punto di vista Di aree verdi Siamo il primo municipio Abbiamo più del 50% Del territorio Costituito da verde agricolo E verde urbano Un tema importante Per il vostro municipio Quindi quando noi abbiamo Ecco la percezione Che abbiamo Dell'area periferica Della città Che è una Condizione piuttosto Articolata Perché noi andiamo Da antichi borghi Millenari Come Chiaravalle Andiamo a nuovi quartieri Come nuovi Tra virgolette Recenti Come il Grattosoglio Oppure abbiamo Aree agricole Ma abbiamo anche Parchi Allora abbiamo Una composizione Che è Bastanza Poliedrica E nello stesso tempo È anche un arricchimento Della città L'abbiamo visto Anche con la pandemia Il fatto di avere Spazi verdi Eccetera È una cosa Piuttosto interessante Rispetto magari A vivere In centro Quattro mura Cittadine E poi dove vado Ecco invece Sicuramente Questo qui È un patrimonio Di tutta la città Il problema di fondo È che da Palazzo Marino Questo ma È strutturalmente Non è una Una colpa Del singolo Che c'è sindaco Piuttosto che un altro Il problema È che proprio Strutturalmente È difficoltoso Per una persona Gestire Una complessità Molto ampia Infatti Non viene gestita Ma è stato per questo Che Noi siamo partiti Con il centenario Degli antichi comuni Che hanno stravolto Completamente L'organizzazione Amministrativa Del territorio Che oggi Si chiama Milano In particolare Nel 1923 Con L'aggregazione Degli undici comuni Con termini Che avevano Tra cui Chiaravalle Ad esempio Tra cui Chiaravalle Per esempio Piuttosto che Vigentino Per stare Nell'area Ben due De questi undici Del munici più cinque Allora Qual era la caratteristica Organizzativa E che avevano Un sindaco Una giunta Che si occupava Prioritariamente Di quel territorio Ti chiedo questo Lo chiedo al presidente Voi potreste essere Il sindaco Del municipio Potreste essere I sindaci Del municipio La giunta Del municipio Formalmente Noi siamo eletti A suffragio universale Dai cittadini Esattamente come Il sindaco Della città Di Milano Poi il sindaco Della città Di Milano E contestualmente Anche Della città Metropolitana E però c'è questa Divaricazione L'Interland Ben gestito Ben amministrato Senza prendere Quella direbbe Nonostante Fedez Ultimamente Dice questo No scherzo Una battuta Sicuramente Poi i cittadini Che guardano Le piccole cose Vedono le differenze Sotto tutti i punti Di vista E quando tu hai Problemi Sui trasporti Hai problemi Sulla raccolta Rifiuti Hai problemi Sugli abbandoni Su tutta una serie Di cose Per guardare Le cose Che interessano I cittadini Questo poi Si riflette È complesso Ecco Ma se abbiamo capito Che il sindaco Ce l'abbiamo Gli assessori Ce l'avremmo Come facciamo Però a livello Degli uffici Ad esempio Walter Cioè quello Un tema Che spesso Si dice Però Eh ma no Non hai il personale Non hai il personale Il comune Ha il suo personale I municipi Non hanno il loro personale Tu hai un'idea Forse Non mi ricordo male Innanzitutto Partiamo dallo stato di fatto Noi abbiamo Sul territorio Decine di funzioni Comunali Presenti sul territorio Che operano sul territorio Che possono andare Dalle scuole materne Dall'anagrafe Dai servizi sociali comunali Eccetera eccetera Abbiamo anche le guardie ecologiche Volontarie Abbiamo la polizia locale Cioè stiamo parlando di L'un per l'altro Un migliaio di persone Che tutte le mattine Cosa fanno Vanno a lavorare A servizio di quel pezzo Del territorio Di quel territorio Questo qui è il punto Quindi Il municipio Non ha il personale Come? Ha tantissime funzioni Come? Anzi E molto di più Di quello che può avere Un corrispondente comune Limitrofo a Milano Perché sicuramente Ha molti dipendenti Di più Quindi Non solo le dirette dipendenze Ma operano nel territorio Quindi Non c'è il personale? Non è vero Se noi non parliamo Di personale di sovrastruttura Cioè quella che fa carta Per certi aspetti Ma parliamo di personale Che opera sul territorio Ne abbiamo Potremmo dire Abizzefe Non ci manca quello Il tema di fondo Esattamente Questo scollamento esistente Per cui noi abbiamo Da questo punto di vista Una breve citazione Da dove? Cos'è quel libro C90? Questo qui è Il governo della città complessa Che è un lavoro Che ha fatto La fondazione Dioguardi Non solo Perché c'è Un'iniziativa Che è la City School Per il governo Della città complessa E delle sue periferie Che è fatto Con l'Associazione Nazionale Dei Comuni d'Italia Ma a Milano E con il Politecnico di Milano Con il Comune di Milano La città metropolitana di Milano Quindi ci sono A livello embrionale Anche operativo Alcune idee che si muovono Il problema è che Queste idee che si muovono Devono diventare Fatti concreti E processi organizzativi Allora Processi organizzativi Qual è lo stato dell'arte? Qui richiamiamo Quello che Ha scritto Alessandro Balducci Che è stato Prorettore del Politecnico di Milano Ma anche Per un breve periodo Però significativo Assessore L'Urbanistica del Comune di Milano E quindi ha potuto guardare Da una parte come studioso Ma da un'altra parte Anche come parte attiva Qual è il sistema Esistente Organizzativo E dice L'attrezzatura Culturale e tecnica Di chi amministra le città È rimasta la stessa Con le sue Settorialità Con le sue piante organiche Le sue strutture Formate Da competenze separate Allora Noi abbiamo Molto spesso Diciamo Bisogna fare sistema Bisogna agire assieme Sinergia Sinergia Si usa spesso adesso La fotografia Che fa Balducci È esattamente il contrario Allora Dobbiamo farci un attimino Una ragione Di questa situazione qui Perché O continuiamo A mantenere Queste strutture separate Da questo punto di vista Siamo evangelici Non sappia la tua destra Quello che fa la tua sinistra Ecco Però Così non funziona E si vedono Tutte le scoperture Ma soprattutto Manca L'utilizzo Delle risorse Esistenti Noi abbiamo Tante risorse Che sono Di persone Persone Che operano Nelle istituzioni Piuttosto che Persone Che operano Nella città sociale Che però Fanno iniziativa Che vale Per la città Non solamente Per il proprio Io Punto e basta Ma ci sono tanti Che fanno Questo tipo di lavoro Allora Tutte queste energie Possono essere utilizzate Se facciamo che cosa Ho qui un'altra Un'altra pubblicazione Che non è proprio recente No Sembra È del 1975 Però delle volte Le pubblicazioni Fatte vicino A determinati momenti Questo in particolare Si parla di Un'esperienza Di decentramento urbano Fatto dall'allora Vice sindaco Del comune di Milano Nonché era stato Assessore a decentramento Andrea Boruso Che configura Che configura E dà un'indicazione Di quelli che dovevano Essere i consigli Di zona Che sono gli attuali Municipi Che cosa scriveva In estrema sintesi Che I consigli di zona No Prefigura Il governo urbano Come un sistema Politico Policentrico Quando noi parliamo Di città policentrica Non possiamo avere La città policentrica Se non abbiamo Un'amministrazione Altrettanto policentrica Altrimenti Non è una città policentrica Sono tanti funghi Che vengono fuori Ma Che Hanno energia Dalla loro capacità È chiedevole È chiedevole E se ne fa una ragione Rimane debole Vedo il Presidente Annuire Ad essere d'accordo Assolutamente sì È una grande verità Quella che ha appena letto Walter Partiamo da un fatto Ci sono i municipi Disegnati sulla carta Quest'operazione fu fatta Durante la giunta Albertini Furono istituiti Poi L'elezione A suffraggio universale Del 2016 E l'ultimo regolamento Del 2016 Ma ancora oggi Noi abbiamo Una geografia Molto differenziata Se guardiamo per esempio Le forze dell'ordine I comandi Della polizia di stato Dei carabinieri Della polizia locale Non sempre coincidono Differiscono Differiscono La polizia di stato A dei commissariati Corrispondenti Esattamente ai municipi Questo farebbe Risparmiare risorse Avere maggiori uomini A disposizione E poter essere Più incisivi Di quanto lo sia Attualmente Polizia locale C'è un investimento Notevole Da parte del comune Con delle assunzioni Importanti Di centinaia Di vigili urbani Nuovi Che a regime Saranno 350 in più Rispetto alla pianta organica Noi dagli impegni presi Con L'assessore Granelli Con l'ex prefetto Gabrielli E col sindaco stesso Ci aspettiamo A breve Parlo Entro fine anno Un incremento E un rafforzamento Della presenza Sul territorio Questa per noi è importante È solo un esempio Ma Si potrebbe Proseguire E continuare Un po' su tutte le varie Argomentazioni E tematiche Però è così Mi sta dando speranza Carapellese Mi dà speranza Che forse qualcosa Davvero si muove Qualcosa può cambiare Noi Non la perdiamo mai Il sottoscritto La speranza Non la perde mai Fino all'ultimo giorno Di mandato Noi faremo il nostro dovere Sono fiducioso Che quello che ho appena detto Verrà concretizzato Entro fine anno A proposito di mandato Siete a metà Praticamente Del secondo mandato Sì abbiamo superato Avete scollinato Secondo mandato Per il presidente No il primo mandato Per il presidente Carapellese Come sta andando Come è andata Come sta andando E come potrà andare Come è andata Si lavora tantissimo Non sembra Magari percepito Da tutti Ma comunque Si lavora quotidianamente Gli impegni sono molti Però c'è anche Tanta soddisfazione Io passo molto Del mio tempo Con i cittadini Li ricevo L'incontro Oltre a fare Le riunioni In colo Adesso va di moda Dopo il covid Si fa tutto online Si fa tutto A distanza Però Questo permette Di lavorare ancora di più E di contattare Ancora molte più persone C'è qualcosa Che voleva fare Da presidente Che non è ancora Riuscito a fare Ma che pensa Di riuscire a fare Entro la fine del mandato Allora Una cosa Ce ne sono diverse Di cose Non ancora realizzate Io ne vorrei Realizzare un paio Che è la riqualificazione Dei mercati comunali Di via Montegani Nera E di Gratosoglio Perché A mio avviso Da quella riqualificazione Può ripartire Una vitalità Della via Del quartiere Che restituisce Poi dinamicità Ai commercianti A tutti coloro Che la vivono E la abitano Perché Il problema È che fermarsi All'esistente Non modificare nulla Dà più spazio Alla criminalità I delinquenti A tutto quello Che non ci vuole E che ha prodotto Poi ultimamente Il risultato Di un omicidio Non più tardi Di pochi giorni fa Proprio in via Cervenate Chiarissimo Allora A meno di 24 mesi Per riuscire a farci Ne facciamo tanti auguri Vabbè Valter Sta arrivando un weekend Importante Giusto? Un weekend importante Diciamo che li abbiamo fatti Giusto? Poi ce ne sono tutti i giorni Mi interessava però Riprende un argomento Per rilanciare questo Lascito Di questo centenario Allora I municipi Hanno gli assessori I comuni limitrofi Hanno gli assessori Qual è la differenza Di agibilità Che hanno Gli assessori Dei municipi Cittadini E quelli esterni Perché Se noi continuiamo Ad avere questo tipo Di situazione organizzativa Dove Gli assessori Dei municipi Devono chiedere All'assessore Comunale Di risolvere Dei municipi Non fanno altro Che andare Ad intasare Il lavoro Degli assessori Comunali Che devono invece Avere una visione Tra virgolette Come dice anche il sindaco Internazionale Addirittura E invece Devono utilizzare Il loro tempo Facendo che cosa Togliendo Per certi aspetti Quello che è La competenza Che dovrebbero avere Gli assessori Municipi Ho fatto un giro Di parole Per dire Che se noi Continuiamo a mantenere Questo tipo di situazioni I problemi del territorio Li spostiamo In centro Speriamo che il centro Che rimane intasato Li risolva Per poi ritornare Ancora sul territorio E' chiaro Che è un meccanismo Che non funziona Allora Questo è il tema Dell'ascito Del centenario Degli antichi comuni milanesi Una riflessione organizzativa Ma anche operativa Dove la prima cosa Che deve accadere Che tutte le funzioni Che operano sul territorio Devono rispondere A chi? Al presidente del municipio Che deve avere Con la sua struttura organizzativa Una visione complessiva Del territorio Altrimenti Ci sarà sempre qualcuno Che gestirà il territorio Come vuole lui però Chiarissimo Nello scorso weekend Sono state Le giornate di periferia Artmini Giusto Walter Spesso volentieri Ad esempio Chiaravalle È protagonista Di queste giornate Ha parlato anche Dei vecchi comuni Ha parlato Quindi Chiaravalle Erano di quelle Prima di chiudere Per chi magari Si fosse collegato Solo adesso Ricordiamo appunto Cosa sta succedendo A Chiaravalle Che sogno avete Per Chiaravalle Si parla di Unesco Giusto Allora Noi abbiamo avviato Con delle delibere Nel mese di settembre Grazie anche a un accordo Col comune Perché su questo C'è stata concertazione Riprendo solo per un attimo I concetti di Walter Basterebbe Concertare Alcune cose Perché noi Per più dell'80% Del lavoro Che facciamo Esprimiamo pareri Che non sono vincolanti Di conseguenza Questa cosa alimenta Un circuito Che poi Non porta A nessuna certezza Anche un po' di frustrazione Forse a volte Mi viene da aggiungere Poi comunque Noi riteniamo Che quando le argomentiamo bene Diventa difficile Non tenerne conto Però è un esercizio Un po' difficile Diciamo che Con Chiaravalle C'è stata una buona Un buon inizio Perché abbiamo condiviso Senza neanche aver preso Accordi a monte Ma perché si condivideva Lo stesso obiettivo E è stato affidato Uno studio di prefattibilità A due soggetti Lo studio BIA Che è uno studio Esperto in materia Ha seguito Il riconoscimento Unesco Delle Langhe Come un paesaggio diffuso E l'altra parte Compete a Bocconi Che ha una cattedra Di storia Dell'arte economica Legata all'economia Del territorio Di conseguenza Siamo fiduciosi Che entro fine anno Avremo un quadro Completo Che ci permetterà Di scegliere Di valutare Se questo obiettivo È perseguibile Perché poi ci vogliono Dai 5 agli 8 anni Per ottenerlo E cosa potrebbe succedere? Per il cittadino Cosa cambierebbe? Intanto Milano Credo Adesso Non vorrei dire un errore Ma oltre al cenacolo Avrà due Siti Unesco Riconosciuti Averne uno in più Non è un male Diventa un'attrattiva E una cosa Che poi va gestita Perché Va gestita bene Perché quando arriva Il turismo Quando arrivano Risorse O quant'altro Bisogna anche Avere una recettività E una Duttilità Diciamo Nel puntista Dei ritorni Per i cittadini C'è sicuramente La possibilità Di migliorare La vivibilità Perché L'Unesco Tende a riconoscere Non Un patrimonio Della abbazia In sé Ma un territorio Un paesaggio Diffuso E questo porta Un beneficio Ad una comunità A maggior ragione Perché questo obiettivo Viene Rivendicato Dal basso Da Una miriade Di associazioni Che lo sostengono Quindi può favorire Uno sviluppo Economico E territoriale Che noi ci aspettiamo Perfetto Presidente Grazie mille davvero Di essere qua con noi Questa mattina Se non ha risposto Ad alcune domande Non ha avuto alcuni temi Non è colpa mia Ditelo direttamente Al Presidente Parlo con i suoi Con i suoi cittadini Del municipio 5 Che poi mi scrivono Sulle varie chat Che non faccio le domande Walter Può girarmi le domande Così magari Me le può girare Me ne faccio Parte Attiva Ha detto Ha detto il Presidente Massimo Svegliamo anche In retroscena In alcune chat Siamo dello stesso gruppo Presidente Quindi le leggiamo Già con le domande Walter Noi ci vediamo Anche di prossimo Qualche appuntamento Qualcosa da dire L'unica cosa Che posso dire Proprio agganciandomi Al tema Anche di Chiaravale E degli altri luoghi Con le giornate periferie Artmi Antichi Borghi I nuovi quartieri Della periferia Terzo weekend ogni mese Cerchiamo Terzo weekend ogni mese Lanciamo uno slogan Non ci sono le giornate fai Ci sono le giornate periferie Artmi Le giornate fai Sono alcune Durante l'anno Ecco Ogni mese Per sette volte all'anno Ci sono le giornate periferie Artmi Che consentono di Conoscere Far conoscere a tutti Quello che è la realtà Composita della periferia milanese Attraverso il legame Con i relativi beni artistici Architettonici Paesaggistici E museali Ma non solo per visitarle Ma anche per prendersene carico E cura Grazie mille Walter Noi ci vediamo quindi Mercolio prossimo Con un'altra puntata Di Fox Periferia Grazie anche a voi Che ci avete seguito Grazie ancora Al Presidente Nel Municipio 5 Natale Carappellese Grazie a voi Che ci avete seguito Ci rivediamo domani mattina Qui in diretta alle sette Come sempre con Good Morning Milano E ogni mercoledì Con Focus Periferia A presto